Ciao a tutti! Consiglio numero non me lo ricordo più, ormai sarà tipo il quindicesimo, il sedicesimo, il diciassettesimo, boh, non lo so più. Il mio consiglio per oggi è quello di fare le cose in modo graduale. Fate le cose con testa e fatele passo passo, non commettete i miei stessi errori. Voi sapete benissimo che io sono un fan del non-limits, sono un fan dell'ultramaratone, del correre su lunghe distanze e credo fermamente che tutti quanti possiamo arrivare a correre per 100 km. L'importante però è farlo in modo graduale, quindi il mio consiglio per oggi è fate le cose con testa ed in modo graduale, passo dopo passo. È come chiedere ad una persona di saltare dalla distanza della mezza maratona fino alla maratona senza aver mai corso le distanze intermedie come i lunghi da 28, da 32, da 36. Sarebbe comunque poi affrontare la maratona una tortura. Oppure passare dalla distanza della 10 km fino alla mezza maratona, quindi dai 10 ai 21, senza aver mai corso distanze tra i 14, 16 e 18 km. Sono comunque quegli allenamenti che ci fanno da trampolino per passare poi a livello successivo. E se saltiamo queste tappe poi la nostra maratona, la nostra mezza maratona, la nostra ultramaratona sarà comunque molto più difficile e viverla magari potrebbe essere una cattiva esperienza. Vi porto il mio esempio pratico. Domenica ho corso alla Ronda Ghibellina, una 70 km con 3500 metri di dislivello e sinceramente ho sbattuto contro un muro grande quanto una casa. L'ultimo oltradale che ho fatto è stato a luglio dello scorso anno, quindi sono passati circa 5-6 mesi senza aver fatto gare del genere. Il massimo che ho fatto è stata una maratona a inizio dicembre, che però ha una distanza troppo corta e non paragonabile a quel tipo di gara. Quindi in realtà non mi ha permesso di essere pronto alla partenza di questa gara e è successo che ho sofferto tantissimo. Ho dovuto combattere veramente tanto per portarla a termine. Ci sono riuscito, sono contento ed è stata una gara bellissima. Però comunque dovevo usare un po' più la testa e fare le cose gradualmente. Magari scegliere una distanza più corta e prepararmi poi per le gare più lunghe a venire, senza comunque sforzare da subito il corpo e dargli uno stress del genere. L'ho appena vissuto sulla mia pelle, il mio consiglio è proprio quello di non commettere i miei stessi errori. Quindi fate le cose in modo graduale e non saltate quegli anelli di congiunzione che ci portano al livello successivo. Io probabilmente avrei dovuto correre una distanza più corta, fare un qualcosa di un po' più leggero per poi affrontare le distanze più lunghe. Quindi il mio consiglio per voi per oggi è fate le cose in modo graduale. Fatelo con cervello e non saltate gli anelli di congiunzione che vi portano poi al prossimo livello. Altrimenti poi comunque sarà tosta, sarà molto più difficile affrontare la gara. Mentre invece se fate tutte quante le cose come vanno fatte, la vivrete comunque molto meglio. Detto questo, fatemi sapere come sempre sotto le vostre esperienze. Leggervi è sempre un piacere, mettete mi piace, condividete e andate a correre. Ciao a tutti e buona giornata! Ciao a tutti e buona giornata!